Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Ortovox Peak Light 32, zaino da alpinismo, scialpinismo molto leggero, molto versatile, di cui adesso ne vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recessione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questo Ortovox. Innanzitutto vi dico che esiste anche la versione 40 litri e le rispettive versioni femminile. Tutte sono realizzate con un Ripstop 420D e nel particolare nella versione da 32 litri che ho provato pesa 1,2 kg. Ora che l'abbiamo vista e qualche caratteristica possiamo iniziare a vedere nei pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Peak Light 32. Qui troviamo la tecnologia Swisswall di Ortovox. Nel particolare troviamo tre cuscinetti morbidi realizzati con questa lana che tendono ad essere molto molto traspiranti. Troviamo solamente tre cuscinetti perché innanzitutto per ridurne un po' il peso e soprattutto perché poi sono stati messi nelle zone di maggior contatto tra lo zaino e la schiena. Vi assicuro che è molto ben ingegnerizzato perché io l'ho utilizzato anche in una giornata particolarmente calda in cui sono andato a fare alpinismo e vi assicuro che davvero ho studiato poco poco quindi veramente un'ottima tecnologia. Dove non c'è questo Swisswall troviamo comunque un materiale morbido che non dà comunque fastidio ma che tendenzialmente tende a far traspirare un pochino anche lui. Quindi in generale comunque lo zaino lo schienale di questo Ortovox fatto molto molto bene e poi essendo che lo zaino è a diretto contatto con la schiena questo Peak Light è veramente molto stabile non ci sbilancia mai anche a pieno carico con anche magari una corda eccetera non abbia nessun problema quindi veramente uno zaino che segue molto nei movimenti. Per quanto riguarda la fascia lombare è abbastanza piccola removibile se non ci dovesse servire nella parte di destra troviamo una piccola taschina dove riporre una barretta o un telefono nella parte di sinistra invece troviamo un inserto porta materiale dove poter andare a mettere qualche moschettone. In sé è una fascia lombare abbastanza piccola come vi dicevo però svolge bene il suo lavoro. Questa ci permette di poter portare al massimo sulla decina di chili, io non andrei oltre. Ed anche a pieno carico la chiusura anteriore svolge un ottimo lavoro, non si apre e soprattutto possiamo far su il cordame in eccesso per evitare che ci sballonzoli davanti ai piedi. Per quanto riguarda infine gli spallacci comodi, una sezione abbastanza normale, né troppo piccola né troppo grande, svolgono bene il loro lavoro, non tagliano le spalle, tengono lo zaino abbastanza fermo quindi, che dire, ottimi anche gli spallacci. Poi naturalmente troviamo anche la chiusura pettorale con il fischietto che ci serve per andare a bilanciare ancora meglio lo zaino. Passiamo alla parte anteriore iniziando ad analizzare il laterale dello zaino. Vi preannuncio che le due parti laterali sono simmetiche quindi ne vediamo solamente una. Inizio subito a dirvi che sono due parti laterali molto molto scarne. Troviamo solamente due cinghie ad andare a tirare per sia ridurre un po' la grandezza dello zaino, non so se usarlo da semivuoto, sia per poter andare a portare lateralmente degli sci oppure per portare, ad esempio con la parte superiore, anche una corda. Veramente molto semplice. Mi piace comunque la rifinitura di Ortovox che ci permette di poter andare a raccogliere la cinghia in più che non utilizzavamo per evitare che sballonzoli, però veramente molto semplici, anzi forse anche fin troppo semplici. Diciamo che io ho sentito un po' la mancanza di una tasca porta rampone, porta borraccia, un po' come quella che avevamo visto sul pick il fratello maggiore. Diciamo che avessimo dovuto anche qua una tasca simile siccome essa è tornata veramente molto molto comoda. Avendola provata sul pick maggiore qua ne sento un po' la mancanza. Passando invece ad analizzare la parte anteriore vera e propria che qua ce n'è da dire. Innanzitutto vi dico che è uno zaino a sacca unica, quindi non è suddiviso all'interno. Però nella parte interna troviamo due piccole fibiette che penso apposta per poter contenere sia la sonda che la pala. Comunque una dotazione anche di sicurezza. Nella parte inferiore possiamo aprire lo zaino facendo una semiluna in modo tale da poterlo aprire quasi fino in alto e io l'ho trovata molto molto comoda soprattutto per magari prendere una giacca messa nella parte bassa quando camminiamo, quindi veramente molto molto comoda. Sempre nella parte inferiore troviamo naturalmente anche il supporto per portare le due piccozze oppure portare i bastoncini e sempre nella parte anteriore possiamo anche portare gli sci di taglio. Inoltre troviamo anche una taschina messa abbastanza in alto, orizzontale, porta mappa. Io lì ci ho messo il mio kit di primo soccorso quando sono andato in giro. Comunque una taschina che torna comoda, non così grossa, abbastanza piccola, però diciamo che comunque è sempre buona cosa averne una. Infine sempre sulla parte anteriore possiamo portare il casco messo o proprio qua nella parte anteriore oppure possiamo metterlo anche nella parte superiore sopra al cappuccio e il portacasco dato in dotazione. Visto che ne parliamo, cappuccio rimovibile, quindi possiamo andare a diminuire il peso del nostro zaino. È composto da tue tasche, una esterna, una interna, abbastanza grossa e soprattutto quella esterna ci sta veramente tanto tanto materiale. E poi per quanto riguarda la chiusura invece troviamo due lacce per poter andare a tirare. Uno serve per chiudere in sé proprio la sacca dello zaino e uno serve invece per andare a chiudere e diminuire la grandezza della parte superiore nel caso essimo usato a semivuoto. Diciamo che comunque è una dotazione veramente molto molto completa. Con uno zaino del genere possiamo farci un po' di tutto come avete visto. Dotazione completa non gli manca nulla e visto che ne parliamo materiali io mi sono trovato veramente molto molto bene. Ci ho portato anche nella parte laterale dei ramponi un po' di roba quindi nello strusciato veramente l'ho trattato abbastanza male in questo mese di utilizzo ed è praticamente ancora nuovo. Quindi veramente materiali super. Infine per quanto riguarda il comparto acqua allora lui con questo nylon 420d possiamo dire che resiste un pochino all'acqua c'è una piccola nevicata una piccola piugerellina eh resiste. Nel momento in cui inizia a nevicare o piovere decisamente non è impermeabile quindi è roba all'interno si bagnerà. Non possiamo portare borracce all'esterno come vi ho detto ma possiamo portare all'interno una sacca idrica con possibilità di far uscire la prunga sul davanti e poi naturalmente essendo uno zaino d'alpinismo c'è alpinismo non troviamo un rincover dato in dotazione. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Ortovox Peak Light. Viene venduto da Ortovox a un prezzo di 220 euro o là lo si trova a un prezzo inferiore. Ve lo consiglio sì sì perché con questo zaino mi sono trovato veramente super super bene. Io l'ho utilizzato per farsi dell'alpinismo anche in velocità ed è perfetto. È uno zaino comunque da utilizzare per delle uscite giornaliere non possiamo pensarci di fare dei grand tour o star fuori diversi giorni. Soprattutto veramente per delle uscite giornaliere è super veramente super. Col suo peso poi che si può ridurre fino a 800 grammi andando a togliere tra la fascia lombare andato a togliere il cappuccio e il frame interno veramente può diventare uno zaino per un alpinismo ad alta quota molto molto veloce. Quindi sì io veramente me lo consiglio. Dato ciò ragazzi una speranza sia stato esauramente sostivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!